Grazie a tutti. 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 grazie. Sebastiano Sacchietti a basso. Vincenzo Cenevese alle tastiere. Francesco Bassa alla batteria. io sono Riccardo Nellocchio. vogliamo ringraziare la Scuola di Musica di Sesto che ci ha ospitato qui. i nostri colleghi comici che ci hanno ripreso durante la performance. a voi che ci avete ascoltato. grazie mille. alla prossima. ancora una volta. Francesco Bassa alla batteria. e Sebastiano Sacchietti a basso. grazie. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.